ultima puntata di ciao darwin 5 l'anello mancante era la tredicesima puntata di questo bellissimo programma televisivo condotto dal buon paolo bonolis ripeto nel 5 di dicembre e a sfidarsi erano le donne donne sia dall'una che dall'altra compagine in particolare si sfidarono le donne del nord contro le donne del sud a capitanare la categoria delle donne del nord c'era la bella paola perego di nuovo la bella paola perego a capitanare invece la categoria delle donne del sud c'era la scoppiettante e molto sexy elisabetta vericodeci a vincere la di sfida tra le due squadre tra le due categorie sociali tra le due compagini tra le due formazioni tra le due per l'appunto sfidanti appunto ci fu la vittoria delle donne del nord belle sexy affascinanti rimase nella storia per così dire la tv italiana il momento della sfidata proprio infatti nel defile la emozione incontenibile di molti maschietti si fece sentire fascino emozioni eccitazioni e grande sessualità grazie un saluto